gentili telespettatori buona giornata benvenuti a questo video di tele italia mattarella avvisa conte sul denaro sparso così a casaccio ricordiamoci il bonus monopattino è emblematico del governo giuseppiano mattarella presidente della repubblica non può intervenire direttamente nella politica nella gestione della politica può farlo capire ma non può intromettersi e prendere parte diventare opposizione diventare maggioranza quindi mattarella che vorrebbe come fare opposizione a questo governo vorrebbe fargli capire che le cose non si fanno così lo deve dire in maniera che si capisca ma non diretta ed è più volte che il capo dello stato cerca di far capire a conte di collaborare non era il momento di dire io sono e voi non siete un bip come diceva no come diceva alberto sordi io sono io e voi non siete un questo che non posso ripetere e quindi nel durante il messaggio fatto da mattarella del 2 giugno agli italiani dice c'è bisogno di maggiore coesione e progettualità cioè sta dicendo dovete sedervi e progettare qui non c'è nessun progetto per il futuro conte si pavoneggia di questi decreti dove alla fine non ci sono soldi per nessuno ma sono centinaia di pagine centinaia di pagine di soldi che dispersi in mille rivoli come se fosse una normale finanziare dove mandi soldi di qua mandi soldi per ristrutturare per il monopattino ma quale ristrutturare conte ma cosa cavolo devi ristrutturare casa o cosa devi qui c'è da mangiare i soldi andavano dati concentrati su chi ne ha bisogno non monopattino e se ristrutturi casa io ti do questo sgravio no e poi no quindi sergio mattarella non vuole drammatizzare ma nemmeno comportarsi in un modo diverso come church il senso è questo lui parla che dice la risalita non sarà veloce la ricostruzione impegnativa per qualche aspetto sofferta dobbiamo contrastare un nemico invisibile che ha sconvolto le nostre esistenze e ha messo a rischio tanti posti di lavoro il quadro è assolutamente a tinte nere oppure è nero quindi adesso l'emergenza economica sta cominciando cominciando a farsi sentire perché tuttavia ancora c'è impossibilità per le aziende di licenziare ma molte aziende non apriranno neanche più quindi non è che licenziano proprio sono chiuse molte attività commerciali medio piccole non riapriranno mai più perché già erano in bilico prima con questa chiusura di tre mesi è proprio la fine ma mattarella è preoccupato ma anche in maniera seria e dice ce la faremo con l'unità e l'impegno di tutti ma non c'è unità e impegno di tutti perché il centrodestra ha voluto collaborare sin dall'inizio ma è stato preso in giro è stata una farsa quelle delle cabine di regia quelle delle riunioni con conte dove ascoltava ma intanto pensava ai fatti suoi quindi mattarella dice servono coraggio e prudenza tempestività e lungimiranza servono anche scelte impegnative magari un governo in grado di prenderle ecco ci vorrebbe anche un governo che che sia in grado che abbia l'ambizione che abbia la capacità di prendere delle decisioni che a volte possono sembrare un azzardo quindi coraggio nasconde quell'azzardo quel dire faccio un punto su questo potrebbe anche andare male perché muoversi pensando di fare solo cose al cento per cento che non possano provocare nessun danno è impossibile perché fare delle cose piccole e parzialmente miopi non portano a risollevare il paese ci vuole anche un po di sfrontatezza un po di coraggio coraggio e prudenza nello stesso tempo tempestività e lungimiranza bisogna essere veloci guardando al futuro tutte cose che mattarella sta facendo capire che non ci sono ci vuole coraggio e prudenza tempestività e lungimiranza impegno di tutti tutte cose che non esistono in questo governo quindi anche scelte impegnative parla mattarella scelte impegnative non bonus per il monopattino e poi non si può andare avanti a distribuire a pioggia così le risorse e dice dovremmo offrire sostegno e risposte a chi è stato colpito più duramente e pianificare investimenti e interventi di medio e lungo periodo per dare prospettive al paese c'è bisogno insomma di un progetto non di idee campate per aria e stavolta non basteranno neanche quei miliardi promessi dall'europa che arriveranno chissà quando avranno voglia dipende da noi dalla dalla nostra intelligenza dice mattarella appunto dalla nostra intelligenza bisogna che ci sia un governo che abbia un'intelligenza economica un'intelligenza visiva su quello che deve succedere quindi questo è il messaggio di mattarella in un ricevimento solo solitario quindi niente cerimonie o perlomeno ridotte al minimo i termini solo un concerto con un unico spettatore che è appunto il capo dello stato con musicisti con le mascherine il capo dello stato con la mascherina bianca i giardini del quirinale vuoti questo concerto in solitaria dedicato alle quasi 34 mila vittime della malattia quindi poi un discorso alla nazione in tv il presidente parla incoraggia tranquillizza fa sentire che lo stato è presente ringrazia ma lo sforzo lo sforzo della ripartenza deve farlo la politica non è mattarella che può risolvere questo e la politica la politica che lui chiede unitaria ma non lo è dice smettetela di litigare ma soprattutto nel governo litigare perché l'opposizione fa il suo compito fa l'opposizione che è un diritto sancito dalla costituzione si chiama appunto opposizione perché costituzionalmente ci deve essere una contrapposizione al governo un qualcuno che ti dice guarda che secondo me stai sbagliando e questo è il sale della democrazia non come dicono in questi giorni le manifestazioni fascioleghisti neofascisti pericolo destra no c'è il pericolo della democrazia è il pericolo della democrazia che non vuole capire il centro sinistra centro sinistra non vuole cercare di capire realizzare che le manifestazioni è democrazia ma loro non piace essere criticati non piace che qualcuno dica la crisi economica si sta amplificando perché dal governo non c'è stata quasi nessuna risposta e mattarella dice il 2 giugno ci invita a riflettere su cos'è una repubblica oggi interpella tutti quanti hanno una responsabilità istituzionale sul dovere di essere all'altezza del dolore della speranza del bisogno di fiducia della gente basta speculazioni le sofferenze provocate dalla malattia non vanno brandite gli uni contro gli altri al contrario il momento che stiamo passando richiede serietà rigore misura senso delle istituzioni e lo richiede tanto più a chi ha una responsabilità e qui tra le righe non so se avete notato quando dice basta speculazioni le sofferenze provocate dalla malattia non vanno brandite gli uni contro gli altri qui io ci vedo un riferimento a quello che dicevano alcuni esponenti del pd e dei 5 stelle parlando dei morti in lombardia speculazioni ecco quello che diceva proprio matteo salvini in un'intervista che ho fatto che ho letto proprio in un video precedente a questo quindi mattarella non sta parlando alle opposizioni sta parlando proprio al governo chissà se il governo avrà quella fine intelligenza per cercare e leggere tra le parole del capo dello stato magari le ha lette ma non gliene frega assolutamente niente l'importante è mantenere lo stipendio per i 5 stelle e per conte mantenere il potere e per per il pd e il centro sinistra è impedire a salvini di governare e regolarizzare più migranti possibili questi sono i vari le varie mission di co di ogni di ogni di ogni area di ogni partito politico ognuno ha i suoi fini che sono prettamente personali dei poveri italiani non gliene frega quasi niente a nessuno io vi ringrazio per avermi ascoltato vi invito ad iscrivervi al canale l'iscrizione è gratuita siamo anche in facebook nella pagina tele italia io vi ringrazio per avermi ascoltato e vi auguro un buon proseguimento di giornata arrivederci a presto tutti quanti